Siracusa, codice rosso, 26enne violento, aggredisce l'ex e si scaglia contro i poliziotti, arrestato. Il personale dipendente interveniva a seguito di un codice rosso nei pressi della zona alta della città per una donna aggredita dall'ex convivente. La vittima, trentenne, era stata aggredita e colpita dall'ex convivente, un uomo di 26 anni di origine serbe. Durante le fasi dell'intervento l'uomo rivolgeva la sua ira anche contro i poliziotti che lo bloccavano e lo denunciavano per i reati di oltraggio. Resistenza e menacce a pubblico ufficiale. Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente l'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissimo.